C'è grande attesa per questo momento che si viverà nella chiesa di Sant'Alfonso in via Filangeri con Don Giochino Lanzillo che ci ha annunciato questa grande opera che sarà deposta dopo la supplica domenica 2 agosto con la deposizione di questo Cristo in croce che sarà molto d'impatto. L'artista che lo realizza è Domenico Sorrentino, un artista che sulla sacralità possiamo dire è diventato un punto di riferimento e non soltanto della città di Cava dei Tirreni direi. Sì, ho lavorato un pochino anche in giro, anche se a Cava ho fatto forse il mio pezzo più importante che per il momento è il Cristo Deposto di Passiano. Poi ho fatto piccole cose perché ho cominciato da poco, insomma sono 15 anni che faccio questo come lavoro principale e quindi non so se sono veramente un punto di riferimento. No, però sta diventando, tra l'altro possiamo dire che già il Cristo morto di Passiano che invitiamo ovviamente a vedere, a chi ci ascolta da casa, basta recarsi alla parrocchia del Santissimo Salvatore, un Cristo che soprattutto nel periodo pasquale è molto suggestivo. Viene utilizzato per una processione particolarmente suggestiva perché vengono spente le luci nel paese e c'è il passaggio del Cristo morto con i tamburi. Maestro, questo Cristo che invece sarà deposto, noi non sveliamo un po' tutti i segreti, lo vedremo ovviamente domenica sera, qualche immagine l'abbiamo fatta e qualcosa si vedrà ovviamente e lo vedranno gli amici da casa. Che cosa lo caratterizza? Qual è la diversità ad esempio rispetto all'altro Cristo, questo che le è stato commissionato? Il Cristo di Passiano è un Cristo canonico, nel senso che sono state fatte delle scelte abbastanza forzate, nel senso che non si è potuto fare moltissimo. Un Cristo morto è strettamente disteso, sono state avvolte i piedi per tenerlo composto, ma non si sono fatte grosse cose, non si sono potute fare grosse cose. Per il crocifisso è la stessa cosa, il crocifisso è un oggetto già fatto migliaia di volte, punti fissi, obbligati, le mani e i piedi, però siamo riusciti in questo caso a trovare un modo per renderlo in qualche maniera particolare. Innanzitutto abbiamo tolto il basamento ai piedi, per cui ho inchiodato i piedi direttamente sulla croce. Questo ha fatto sì che tutto si spostasse in avanti. Poi è stata scelta l'idea di non metterlo morto, quindi Cristo è nel momento in cui dice Padre perdona loro che non sanno quel che fanno, quindi si rivolge un po' a noi che guardiamo e un po' all'altissimo. Ed è separato dalla croce, cioè è staccato dalla croce, viene verso chi guarda. Questo mi ha concesso di avere un po' di libertà nel creare delle anatomie particolari. Poi c'è stata una storia particolare che in fase di progettazione è avvenuta, c'è stata una particolare cosa, un particolare evento. In fase di progettazione in laboratorio è entrato un pettiroso e si è fermato davanti al bozzetto. Adesso io non vorrei togliere spazio a Don Giacchino perché tocca a lui di raccontare la sua riviera testimone di questo fatto. Ed è un evento non di tipo miracoloso, ma se non altro molto curioso, molto particolare. Diciamo che ha indicato un po' anche il tipo di opera. Si pensava di farlo molto sofferente, invece con questo evento abbiamo messo un po' di freno alla sofferenza. Abbiamo più badato all'idea che lui abbia superato il dolore, ci aiuta a superare il dolore, che non che ne viene completamente invaso. Domenico, quanto è stato complesso realizzare quest'opera che è in legno, in tiglio, abbiamo detto, un lavoro cominciato mesi fa? È stato complesso di quello che mi aspettavo. Perché in un primo momento l'avevamo progettato delle dimensioni di un uomo, doveva essere un metro e settantadue. Poi per fatti architettonici, nella chiesa è molto ampia, la parete è molto grande, risultava un po' troppo poco, era troppo misero. E quindi con leggerezza io e Don Giacchino abbiamo deciso di portarlo una volta e mezza alla taglia normale. Chiaramente aumentare di una volta e mezza la taglia normale non è così semplicemente geometrico il fatto. Girando qui per il laboratorio vediamo tante altre opere. Domenico Sorrentino ha cominciato 15 anni fa, arrivava da un altro settore, però si è specializzato. Vediamo alcuni bozzetti, alcune opere compiute che sono state anche esposte in biennali. Abbiamo visto alcune da biennali di Palermo molto belle, significative. Lavora anche su commissione con Armando Principe, che conosciamo, della Prince Art. Quanto è importante che ad esempio si punti sull'artista, che ci sia anche qualche privato che punti sull'artista? Io personalmente credo che nell'ambito del processo artistico il committente è un elemento fondamentale. Non per l'aspetto economico, ma per dare un senso a quello che un autore fa. Tra l'altro penso che un autore non esprime il suo massimo se esprime se stesso. Esprime il suo massimo se riesce a esprimere la volontà di altri. Si diventa un tramite, si diventa un medium, un mezzo. Per me quando arriva un committente e mi chiede una cosa, non sta frustrando la mia creatività, ma mi sta proprio stuzzicando. Perché lui dandomi un incarico, io mi devo muovere all'interno di quella cosa già preconfezionata, che a lui sembra preconfezionata, per tirare fuori qualcosa di speciale, di particolare. E chiudiamo con un'ultima carrellata, e dopo ovviamente lo vedremo, sul Sant'Alferio. Questa è un'altra opera che potrebbe, magari, nei prossimi anni essere visibile. Mi piacerebbe molto realizzarla. Sia perché la vita di Sant'Alferio per me è stata una rivelazione. Noi Cavesi lo ignoriamo completamente. Da quando ho scoperto la vita di Sant'Alferio, mi fa piacere mettere un'alfa ogni volta che firmo il mio lavoro, in suo onore. Perché mi ha fatto capire molti fatti, molte cose. Vedremo se sarà anche realizzato, commissionato realmente, e poi realizzato e sarà posizionato, dovrebbe essere posizionato all'uscita autostradale, indicando proprio la direzione per l'Abbazia. Sì, sì, sì. E' un progetto antico, tra l'altro voluto anche da Antonio Palumbo, che ha curato a suo tempo. Poi vabbè, le amministrazioni cambiano, le cose diventano sempre molto complesse. Io personalmente... Invitiamo il sindaco, anche Vincenzo Servalli, a visitare lo studio di Domenico Sorrentino e vedere quest'opera e magari capire se è giusto puntare o meno. Grazie Domenico, ovviamente a domenica prossima per scoprire questo grande Cristo. Io torno al lavoro perché sono un po' in ritardo.